Si gioca a Gliaca di Piraino in provincia di Messina contro una squadra affamata di punti ed attualmente ultima in gradatoria. Domani il Gela se la vedrà contro un due torri che centubricherà le forze per ottenere un successo. E' un test importantissimo. Siamo alla terza giornata del torneo di Serie D. Il campionato è lunghissimo ma bisogna continuare a far punti ovunque. E i biancazzurri del tecnico Pietro Infantino nelle prime riuscite hanno fatto il loro compito. Pari a Pomigliano e Vittoria Sonora domenica scorsa contro il Sersale. Domani però si tratta di un derby e i derby hanno sempre una storia ben diversa da tutte le altre partite. In questo momento stiamo lavorando molto su di noi per avere una quadratura come squadra, come gruppo. Siamo contenti che in questi pochi giorni la squadra ha assimilato il pensiero del tecnico. Io credo che punta molto sulla compattezza, sull'umiltà, sulla voglia di lavorare, sulla voglia di sacrificio. La formazione che ci andrà in campo domani in terra messinese dovrebbe essere quella che domenica scorsa ha travolto i calabresi dal Sersale. Ancora out Alma. Il gruppo sta lavorando tutti al massimo. Se non ci sono problemi fisici, credo che gli undici che hanno iniziato hanno dimostrato di meritare la riconferma. Se lavorano in questo modo e fanno quello che si deve fare, credo che meritano la riconferma. Anche se ci sono 3-4 giocatori che stanno spingendo, sono molto contento per questo. Continuare sulla strada tracciata in queste due prime giornate di campionato è l'obiettivo del tecnico gelese. Non ci siamo mai posti dei limiti. Io credo che giorno dopo giorno dobbiamo lavorare per migliorarci tutti. Credo che questa sia l'aspirazione più importante. Ho detto domenica che noi non promettiamo niente alla gente, ma solamente l'impegno, il sudore, la voglia di onorare questa maglia. E credo che alla fine se ci sono queste componenti ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni. Per la trasferta di Gleacca di Piraino di domani, i tifosi della Curva Angelo Boscai hanno organizzato un pullman al costo di 15 euro, escluso il biglietto stadio. Per adesioni o informazioni, rivolgersi alla cartoleria Pausa Internet di Via Venezia 316.